Allora, per le braciole disponiamo la fettina di carne su un tagliere con la punta più piccola verso l'alto, poi la massaggiamo con un pochino di aglio in polvere, la insaporiamo con un po' di pepe e un pochino di sale, poi aggiungiamo una fettina di lonzino o se vi piace anche di guanciale o di pancetta, in base ai vostri gusti. Ci aggiungiamo il pecorino abbondante, un pochino di prezzamolo tritato, grattugiato e chiudiamo prima da un lato, poi dall'altro, prezziamo con le mani e iniziamo ad arrotolare dalla parte più piccolina, come a creare un involtino. Quando arriviamo alla parte più spessa con il condimento, prendiamola in mano e continuiamo a girare fino ad arrivare alla fine, chiudendo, stringendo bene, ed ecco la braciola. Per fermarla basta uno stuzzicadenti e voilà.